Ciao a tutti, io sono Elena, sono un'educatrice e mi sono lavorata qua a Justo. Quando l'università mi ha proposto di partecipare agli JustoTalk, mi ha chiesto di individuare un tema che potesse essere interessante per me, per voi, ma che soprattutto potesse racchiudere un po' il senso del mio lavoro come educatrice. Ho scelto quindi il tema dei limiti, perché? Perché io lavoro in una comunità minorile per adolescenti e il tema dei limiti è presente davvero H24. Il nostro lavoro si basa assolutamente in primo luogo sul migliorare quella che è la qualità della vita dei ragazzi che stanno in comunità. Però nello specifico ci basiamo molto sul lavorare, su che cosa sono i limiti per questi ragazzi, perché quando poi usciranno dal contesto comunitario, si troveranno inevitabilmente, come tutti noi, a doversi confrontare con i limiti sociali, autoimposti, presenti comunque all'interno del mondo. Per provare a spiegarvi cosa sono i limiti, come dobbiamo intenderli, vi proporrei un esperimento, ovvero vi chiederei di provare a pensare una definizione alla parola limite. Probabilmente la maggior parte di voi avrà pensato al limite come una serie di regole che vanno a delimitare, a definire l'agire dell'uomo. L'adolescente un po' ribelle che ancora in me è pienamente d'accordo con questa definizione, mentre l'adulto barra educatrice che vive a fianco dell'adolescente passata storce un po' il naso. Perché storgo un po' il naso? Perché effettivamente, sì, i limiti vanno a definire e a delimitare la libertà dell'uomo, però dobbiamo prendere in considerazione altri due elementi. In primo luogo il fatto che il limite è un elemento soggettivo, soggettivo perché? Perché siamo noi stessi con la nostra capacità di agire e di pensiero a definire se tali limiti sono validi per noi. Faccio un esempio, quando eravamo piccoli la mamma, il papà, il nonno, insomma un qualche adulto ci ha detto, ok, se devi attraversare la strada guarda se ci sono le macchine, se ci sono le macchine lascia perdere per ora il passaggio. Possiamo scegliere noi se passare o meno con le macchine? Certo è che se passiamo con le macchine in corsa probabilmente a casa non torniamo tutti interi, mentre se magari aspettiamo che le macchine si fermino probabilmente abbiamo qualche possibilità in più. Ecco quindi che il limite soggettivo. L'altro elemento consiste nel fatto che i limiti devono essere considerati anche come una sorta di soglia, proprio come la porta, la soglia della porta, che se superati ci permettono di ottenere competenze in più. Anche in questo caso faccio un esempio per rendere il tutto più concreto e più comprensibile. Prima dei 18 anni non si può guidare, o meglio non si può guidare la macchina con la cilindrata più potente, io ho fatto un'altra università quindi di macchine non me ne intendo molto, però in generale non si può. Perché non si può? Perché c'è un limite, una norma, una legge che ci dice se non hai 18 anni non lo puoi fare. Quando però acquisiamo l'età giusta, la società ci dice ok, hai 18 anni, devi superare il limite della patente, perché? Perché in questo modo ottieni la competenza di guidare. Ecco quindi per poter parlare di limiti dobbiamo tenere in considerazione tutti questi elementi, perché? Perché se analizziamo solo uno, la definizione diventa un po' scarna, non abbiamo tutti gli elementi per poter comprendere effettivamente cosa è il limite. Torniamo però agli adolescenti, che sono effettivamente il mio reale ambito di lavoro. L'adolescenza è l'età di mezzo tra l'infanzia, quindi tra l'essere bambini, quando la mamma ci diceva di non attraversare la strada, e l'essere adulti, ovvero diventare noi, la mamma e il papà che dice di non attraversare la strada. L'adolescente si trova un po' lì in mezzo, non è né carne né pesce, è un po' un essere che non si capisce bene che cosa sia. C'è un altro elemento, l'adolescente, durante l'adolescenza vive due importanti cambiamenti. Un cambiamento fisico, perché biologicamente cambiamo, ci guardiamo allo specchio e non siamo più bambini, e un importante cambiamento psicologico. Tutta questa serie di cambiamenti psicologici vivono un processo, che si chiama processo di neuroplasticità, che per motivi di tempo non riesco a spiegarvi nello specifico, ma insomma se vi interessa vi consiglio di andare a leggere qualcosa, perché è molto interessante. In generale possiamo dirci che avvengono cambiamenti a livello neuronale e sinattico, e tali cambiamenti rendono l'adolescente particolarmente suscettibile e sensibile agli stimoli esterni. Questa suscettibilità nei confronti degli stimoli esterni porta allo svilupparsi di alcuni bisogni particolari. In particolare il bisogno di provare esperienze, perché è importante che voi sappiate che noi psicologi, educatori, medici, eccetera, eccetera, vi definiamo come i sensation seeker, ovvero coloro che hanno necessità, bisogno e diritto, soprattutto diritto, di provare nuove esperienze. Questo perché? Perché ci colleghiamo al secondo bisogno, ovvero quello di affrancarsi dai genitori o dagli adulti in generale. Il bisogno di affrancarsi dai genitori è fondamentale perché l'adolescente, ovviamente inconsciamente, attua un processo di falsificazione, ovvero tutte quelle ipotesi, quelle regole che precedentemente riteneva come valide, vengono messe in discussione. Questa messa in discussione delle regole permette di costruire delle regole che per l'adolescente sono valide, coincidono con il proprio pensiero e di conseguenza potranno essere utilizzate durante l'adultità. Il secondo bisogno è il bisogno di autonomia. L'autonomia per qualunque adolescente del mondo è il bisogno fondamentale, quello a cui si mira, ovvero la possibilità di poter andare a prendere un gelato senza dover chiedere il permesso a nessuno e poter scegliere un'università piuttosto che un'altra. L'autonomia è proprio quello a cui miriamo e per poterlo ottenere dobbiamo infrangere dei limiti. L'ultimo bisogno è il bisogno ultimo dell'adolescenza, ovvero il bisogno di crearsi un'identità stabile. Tale identità è fondamentale per permettere in futuro di poter vivere un'adultità sana e basata su principi solidi e validi. Tutto questo superamento di limiti per poter raggiungere e soddisfare tali bisogni sono assolutamente sani e funzionali. Dobbiamo però dirci che purtroppo si incombe in un superamento dei limiti non tanto sano, perché c'è qualche ostacolo che l'adolescente deve riuscire a superare. In questo caso parliamo di due limiti particolari, il limite corporeo e il limite relazionale. Per quanto riguarda la patologicità del limite corporeo, dobbiamo intanto dirci che cos'è il corpo per l'adolescente. Il corpo per l'adolescente, ma in realtà anche per l'adulto e per il bambino, è quell'elemento fisico che ci permette di imporre la nostra presenza all'interno del mondo, ovvero io impongo la mia presenza qua in questa aula e voi vedete che sono, mi chiamo Elena, che ho gli occhi marroni, i capelli castani, la camicia bianca, quindi impongo l'esserci. Il corpo diventa quindi un po' il nostro biglietto da visita. Ecco che spesso diventa anche lo strumento tramite il quale vengono espresse alcune emozioni, alcune sensazioni. In psicologia tutta questa roba qua si chiama acting out, ma non mi dilungherei troppo sulla teoria. Per quanto riguarda i limiti corporei parlerei, ovviamente purtroppo non in modo completo, ma dei disturbi alimentari, dei comportamenti autolesionistici non suicidiari e dei giochi della morte. Per quanto riguarda gli sviluppi patologici del superamento dei limiti sul corpo, parliamo in primo luogo dei disturbi alimentari. I disturbi alimentari vengono definiti tramite il DSM, che è il manuale diagnostico dei disturbi mentali, viene considerato un po' il libro sacro da parte degli psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, e definisce appunto i disturbi alimentari come quella serie di comportamenti che vedono nell'assunzione di cibo un'assunzione patologica. In particolare parleremo dei tre principali disturbi alimentari, che sono l'anoressia nervosa, che consiste nella restrizione del cibo, la bulimia nervosa, che consiste in grande abbuffate, quindi nella consumazione di una grande quantità di cibo, con la conseguente eliminazione del cibo, ed infine del binge eating, che tra i tre è il disturbo alimentare meno conosciuto, ma che essenzialmente consiste in abbuffate senza la parte di eliminazione. Perché parliamo di limiti correlati ai disturbi alimentari? Perché non so se vi è mai successo di guardare su internet qualche video di testimonianza di ragazzi e di ragazze che hanno sofferto principalmente di anoressia nervosa. Questi ragazzi riportano la sensazione e la percezione, durante la presenza del disturbo, di voler scomparire dal mondo. Ecco quindi che il disturbo alimentare diventa una sorta di scavallamento del limite tra la presenza fisica nel mondo e la non presenza. Inoltre, il disturbo alimentare, dobbiamo ricordarci che si sviluppa intorno alla presenza di un numero fisico, perché il peso è un numero oggettivo quantificabile, quindi è più facile poter esercitare il controllo su un qualche cosa che vediamo oggettivamente. Il secondo tipo di sviluppo patologico consiste nell'autolesionismo non suicidiario. Non suicidiario perché? Perché il ragazzo o la ragazza che mette in atto questo tipo di comportamento non ha il fine ultimo di togliersi la vita, non è questo lo scopo. L'autolesionismo consiste in una regolazione, in un tentativo di regolazione emotiva, quindi quando percepiamo una sensazione, un'emozione che per noi è troppo forte, non la riusciamo ad esprimere a voce oppure a, non lo so, andare a farci una corsa, a fare qualcos'altro, ma per regolare questa emozione tracciamo un segno fisico sul corpo, quindi delimitiamo il nostro corpo fisicamente con dei segni che di solito consistono in tagli, ma in realtà esistono diverse tipologie di autolesionismo. Infine, l'ultimo elemento di cui dobbiamo parlare sono i giochi della morte. I giochi della morte hanno in questo caso lo stesso scopo dell'autolesionismo non suicidario perché vanno anche loro a sfidare il limite più importante che abbiamo, ovvero quello della vita, quello della sopportazione del nostro corpo nei confronti del dolore, ma hanno una caratteristica in più, ovvero si sviluppano in gruppo. Entra in gioco quindi anche l'accettazione da parte dei nostri amici e del gruppo dei pari. I giochi della morte, parliamo per esempio di tre, possono essere l'abelling che consiste nel porre dell'alcol all'interno dell'occhio, in questo modo si velocizza il processo di ubriachezza e di sordimento, con però ovviamente la conseguenza, come sappiamo l'occhio è un organo particolarmente delicato e quindi la possibile conseguenza della cecità. Un altro esempio può essere lo space monkey, in cui ci si procura uno strozzamento o con sacchi di plastica, con cinture, per diminuire l'afflusso di sangue al cervello. Anche in questo modo ovviamente ci si procura un parziale sordimento che può portare ovviamente però a conseguenze molto pericolose. Simile allo space monkey c'è anche il batmanning, in cui ci si pone a testa in giù aumentando il flusso di sangue al cervello, aumentando lo stordimento e aumentando anche il rischio di potersi fare veramente molto male. Quindi dopo il limite corporeo passiamo al limite relazionale. Possiamo dirci che è normalissimo in adolescenza a scontrarsi con qualunque adulto che ci torni a tiro, in particolare sono i santi e poveri genitori o comunque le nostre figure di riferimento. Perché l'adolescente è maggiormente portato rispetto all'adulto a scontrarsi con gli altri? Perché ha la necessità di testare quali sono le basi relazionali su cui si fonda il rapporto tra se stesso e l'altro. In comunità siamo, possiamo dire, sotto attacco metaforico H24. Perché? Perché i nostri ragazzi possono essere definiti dei sorti di analfabeti in ambito relazionale, in quanto spesso, non sempre, assolutamente non è la regola, ma spesso sono stati abituati ad un tipo di relazione a volte anche patologica che quindi non gli ha permesso di costruirsi le basi sane per conflitti che poi possono avvenire nel futuro. Perché qual è lo scopo del confronto e del conflitto? Quello di costruirsi strumenti che ci saranno necessari in futuro per poter sostenere litigato e discussione con altre persone senza andare fuori di testa. Anche in questo caso dobbiamo parlare di identità perché queste competenze hanno a che fare con la costruzione dell'identità perché nel momento in cui io non riesco a stare all'interno di un confronto è perché probabilmente non riesco a riconoscere l'identità altrui, ma valuto come valida solamente la mia. Questo ovviamente non è possibile perché nella realtà ci troveremo sempre a doverci confrontare con identità diverse dalle nostre. Ecco, io spero di essere stata abbastanza chiara nel mio discorso, di avervi fatto percepire l'amore per questo lavoro, che è un lavoro sicuramente molto complesso, che va sicuramente anche a toccare corde emotive importanti per tutti noi perché sono argomenti non sicuramente semplici e non sicuramente leggeri. Però è sicuramente molto affascinante. Io vi auguro di trovare la vostra strada e di poter individuare i limiti che per voi possono essere più adatti per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Ciao! 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 Grazie a tutti.